E con le note della bandida musicale di Eichiaronia, iniziamo e diamo in via la sesta La bandida musicale diretta dal maestro Di Carlo Buonasera cari musicisti E allora questo sarà un primo giro ricognitivo Inveniamo i cavalieri a esporre, a mettere a bella vista il numero Placido Iudicello 114 Salvatore Rivilli con il numero 50 113 Salvatore Rivilli con il numero 111 Francesca Giordano Il numero Un passo d'orobre per Spagna Canin Grazie per questa musica dedicata a una tela gemellata Antonio Rinaldi numero 70 Non chiediamogli niente, facciamo un warm up, una passeggiata E il secondo giro che va a punto Salvatore Rivilli con il numero 110 Venga signore, venga da Scilipoti Francesco Rinaldi Scilipoti Daniele 099 Complimenti per il cappello Attenco, guardami, guardami Moltissime femmine, moltissime giegua Numero 98 Abbiamo sentito bene Corce, va avanti con le mani, tranquilli È un cavallo pressione Calma, togli gli speroni al prossimo giro Meglio È guapo È guapo Il maestro Bruno già comincia a interferire, a parlare È un cavallo importante Ma sono male come si chiama il cavallo Vedi un marchio E ancora un altro cavallo 115 Salvatore Di Bacca Numero 128 Molto bene Aspetta, aspetta la medaglia I bambini devono montare sempre con il pezzo Bravi Bravi all'organizzazione per questo Grazie signori Grazie signori per la musica Vediamo che avanzano un sauro splendido Com'è a spread Questa è il giorno di due Creare un po' di atmosfero Numero 125 Oh, un bingo sul pone Questo mi fa piacere, i bimbi dovrebbero notare i poni. Avanti! A tempo la banda è intorno oltre un'altra marcia. Il numero uno, aspetta, 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 applausi. C'è un po' di credit. Don Garrà, Antonio. Vampo, la sollegua. Si arrivano. Puoi sorridere un po'? Il bel giugno, un bel sorriso, grazie ancora. Segue il 79. Don Garrà Giuseppe. Applausi perché è in forma, eh? Erika, Cristiano. No, no, no. Cavallo e cavabine! In forma! Avanzi con le mani. Fammi vedere che avanzi con le mani. Bene. vediamo che la giuria già... Buongiorno! 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 E se tira, non va... ecco. Buongiorno! un signore con una copola vaso col numero 101 col numero 75 straniero? il cognome è sicilianissimo il nome è un buono non leggiamo il numero il numero 86 Giuseppe Mammana aspettiamo attenzione, fermatevi numero 85 numero 121 Cannata Benedetto seguito con il numero 122 Panto Francesco grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fanno una valutazione. Un applauso veloce ma caloroso alla banda musicale, all'associazione musicale Nino Merlino di Caronia, diretta dal maestro Di Carlo. Grazie per la vostra presenza. Sempre fa parte dell'organizzazione. Grazie a tutti. 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 Perfetto. Perfetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Numero 8. Letta Fabio. leggiamo il numero leggiamo il numero il numero 121 cannata benedetto 122 Campo Francesco adesso la manifestazione si sposterà al campo sportivo dove ci sarà la premiazione e gli spettacoli equestri speriamo di non aver annoiato i nostri ospiti anzi li ringraziamo di cuore e il tutto grazie Grazie a tutti.